Ciao a tutti, come riavere il tuo ex? Come fargli rimpiangere la rottura? In questo video ti voglio spiegare come riavere il tuo ex, come fargli rimpiangere la rottura nei tuoi confronti. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E inoltre ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise, mirate alle tue domande. E veniamo dunque al tema, come riavere il tuo ex? Come fargli rimpiangere la rottura? Allora, la prima cosa è da tenere presente che se dopo una separazione vuoi mettere insieme un piano, una strategia per riconquistare il tuo ex, il primo grave errore che si commette, un errore veramente molto grave, è quello di non controllare le tue emozioni. Per riconquistare il tuo ex è necessario, diciamo, sicuramente fare un passo indietro, cercare di capire le motivazioni alla rottura ma senza stare a rimuginare sopra. E poi utilizzare, diciamo, delle strategie utilizzate in modo intelligente però, perché dare l'impressione di non essere equilibrati, iniziare a cercare ossessivamente l'ex, beh, questo non soltanto non ti aiuterà a farlo tornare indietro, ma anzi farà esattamente il contrario, contribuirà ancora di più ad allontanarlo. Devi tenere presente che il punto di partenza devi essere te stessa. La felicità, il benessere personale, la crescita personale sono fondamentali per poter vivere l'amore. Per cui devi dimenticarti, non utilizzare più il comportamento precedente se vuoi avere dei risultati diversi. Quello che devi fare è diventare di fatto una persona migliore, prima di tutto per te stessa, più attraente, più attrattiva, con più capacità di attrarre, in modo tale che sia il tuo ex che abbia la voglia di ritornare. Anche perché nel momento in cui il tuo ex percepisce questo desiderio, percepisce questa voglia di ritornare, e beh, tu praticamente hai, come si dice, il coltello della parte del manico. Puoi mettere vincoli, imporre condizioni, insomma, puoi gestire la situazione in modo ottimale per te stessa, per il tuo punto di vista. E quindi ottenere dei risultati che neanche la tua più ferva di immaginazione ti avrebbe immaginato, diciamo, di poter ottenere. Quindi, quello che devi fare, la prima cosa, è non crollare, ma vedere un'opportunità. Vedere un'opportunità, l'opportunità di diventare la versione migliore di te stessa. Iniziare a prenderti cura di te stessa, iniziare ad avere una vita più eccitante, iniziare ad avere una vita più appagante, iniziare a darti emozioni, iniziare a conoscere persone nuove, iniziare a fare delle cose che magari non facevi prima. Tutto questo ti farà, diciamo, percepire energeticamente come a trend. Poi oggi c'è la possibilità di condividere le cose con i social, e mantenendo un primo periodo di distacco dal tuo ex, il classico no contact, e, diciamo, diventando nel frattempo la versione migliore di te stessa, ma anche più seduttiva, più attraente, sviluppando proprio l'energia femminile, la capacità di attrarre, la capacità di coinvolgere, beh, intanto attirerai naturalmente diverse persone, attirerai uomini, attirerai persone che si coinvolgeranno con te, uomini che si coinvolgeranno con te, e automaticamente, per magia, vedrai che anche il tuo ex sentirà l'esigenza in qualche modo di ricontattarti, sentirà l'esigenza in qualche modo di manifestarsi, sentirà l'esigenza in qualche modo di farsi vivo. E tutto questo per te non può essere che un grande, che un enorme vantaggio, quello di poter ottenere dei grandi risultati col minimo sforzo. Quindi è come diventare un bel giardino per attrarre nuovamente le farfalle. Questo è quello che devi fare. Quindi il punto di partenza devi assolutamente essere tu nel migliorarti, nel cogliere questa opportunità per diventare una persona più attraente, significativamente più attraente, significativamente più carica di energia positiva. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, e ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi, abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!